Ma non mi hai ripreso per nulla? Nulla prima? Si è spento perché l'avrai toccato. No, a me non si spegne, a te si spegne. Ma vedi che anche tu pieghi un po' le gambe? Ah, vanno piegate le gambe, ho capito tutto. Dai, gira, gira, quando sei stufo? Mi chiami?